Tutto pronto per la diciassettesima edizione dei premi Giulio Natta e Nicola Copernico per la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ormai consueto appuntamento annuale che premia ricercatori e divulgatori scientifici. Noi quest'anno, proseguendo con quello che abbiamo iniziato nel 2003, cerchiamo di coinvolgere il maggior numero di persone possibile verso la cultura scientifica, cerchiamo di sensibilizzarle per capire l'importanza che hanno avuto i progetti, le innovazioni, la tecnologia nel progresso nostro, diciamo, del nostro mondo. Come strumento abbiamo pensato di utilizzare appunto le cerimonia di premiazione che porta tutti gli anni a Ferrara personaggi internazionali conosciuti nel mondo della chimica, divulgatori scientifici altrettanto importanti come abbiamo avuto in passato da Piero e Alberto Angela, da Michele Mirabella e da altri che basta andare a vedere sul nostro sito, sono tutti elencati e diciamo che questo ci vuole servire proprio per avvicinare alle materie scientifiche il maggior numero di giovani, perché da questo dipende anche il nostro futuro, perché l'interesse è quello che fa scaturire poi la curiosità, che è quello che poi fa indagare sui progetti che vengono presentati in queste cerimonie di premiazione. L'appuntamento è come sempre aperto alla cittadinanza. Noi ci troviamo sabato 26 ottobre, chiaramente, alle ore 10 inizierà la cerimonia di premiazione a Palazzo Roverella presso il Circlo dei Negozianti. L'invito è aperto a tutti quanti vogliano partecipare e quindi noi aspettiamo numerosi le presenze di giovani, anche meno giovani, che siano interessati poi a scoprire chi saranno i premiati di quest'anno. Ecco, per ricordare, i premi sono tre in particolare. Uno per la chimica, che viene attribuito ad un affermato ricercatore nel campo della chimica, appunto. Uno per le scienze biomediche, attribuito però ad un dottore, un personaggio, che non abbia compiuto ancora i 35 anni, quindi lasciamo spazio anche ai giovani. E poi abbiamo un premio per la divulgazione scientifica, che di anno in anno viene attribuito personaggi diversi di una certa rilevanza. Infine, i riconoscimenti Niccolò Copernico sono attribuiti annualmente a giovani ricercatori meritevoli di menzione per apprezzabili lavori svolti nell'ambito della ricerca. Quest'anno saranno otto i premi assegnati a dottori di ricerca per innovative tesi in scienze e tecnologie e consisteranno in altrettante medaglie in bronzo commemorative raffiguranti il volto di Niccolò Copernico accompagnate da una pergamena con motivazione.